Zuppa romana Addirittura? Sì Sempre del gruppo tedesco dove appunto Cioè alla fine è quasi uguale a numero uno Semplicemente non parla di Lucatoni Vabbè, ok Però poi per il resto è praticamente identica Poi hanno fatto un italiano una parodia tipo Zuppa di fagioli o qualcosa del genere E poi Cosa sono sti cosi? Mamma mia ho visto Ci sono due personaggi nuovi Sembravano tipo due angeli ma erano strani Ci sono anche gli occhi Non riesco a trovare Se riesco a trovare il personale Il boss della chest Qualunque esso sia arriva Giochiamo a Salvador Tipa È bello Beh c'è anche il Tango Stadium Quanto fa favela Nel parchetto dello stadio con gli edifici e mezzini Non ho notato ma il campo Il pallone è un super tele Non ho notato Non lo so Niente giocherò con la tastiera mi dispiace Perché senza giocare con il super tele non è possibile Perché no? Perché no? Cioè solo nel tutorial non mi fa impostare il controller È un macello Ma nel senso Tutorial non ti fa giocare col controller? No Perché nel menu è normale che il controller non faccia un cazzo Eh però qua adesso mi fa fare solo Come si dice? Solo La tastiera Ma quindi non è ancora fatto più pari? Eh l'ho iniziato adesso Vedi Per Certo dillo qualcosa Dillo qualcosa tu Dillo qualcosa tu perché io non posso Mi sono cresciate sei volte Expeed Gamecaster Sti cazzi Io e io nei tempi giusti Cosa tu perché Se no Io nei tempi giusti Mi ha menato il cazzo Due ore E ti Siamo avanti E poi non ha fatto cazzo Quando puoi muovere il giocatore Sicuramente il joystick dovrebbe funzionare Anche a me non ha funzionato Perché non potremmo Per rimanere il fatto Mac che tu debba finire Sono quasi Se hai riscatto a trovare l'uscita Io sono sicuro Che meccanino prima di Sì sì E io no C'è un casino qua Perché non capivo Anch'io Quando ti dice Il passaggio Il passaggio E poi muovi la freccia Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Devi andare incontro al pallone Ti stai insegnando di andare incontro al pallone Invece che aspettarla come un piccio Non sto leggendo Sì ma me lo sta spiegando in un modo Che definire idiota Coscrivermi Fai il passaggio E poi muovi la freccia Dimmi Vai verso la palla Cioè non è difficile Ma credo di morire Perché non so cos'è questo personaggio Non so che cazzo sta facendo nella vita Ma per il resto Sono morto Va bene Non importa Che mai la musica è carina di sto gioco Ma nulla batte quella di freestyle Che cazzo Va bene sono morto Ma dai hai fatto una cosa indie bank Voglio entrarci anch'io Ah Devi fare il Non gioca sempre con la tuta Non gioca con il maglioncino che aveva nella schermata Sono morto Va bene Perfetto Ehi Andiamo gioco Devi entrare Vai su club E fai search Indie bank Dov'è il club? Dov'è il club? Dov'è il club? Su si Avrei potuto finirla andando a ricercare tutti i cuori spirituali in giro per il mondo Però Mamma mia L'altro giro Sì Ingeta Avevo le cazzo di bombe infinite Ma se stavo andando a tornare indietro Ad apparte a scoppiare tutti i cuori azzurri Altro che alle 22 e 26 iniziavamo sto segmento Oggi in live non è arrivato a real beyond a scrivere robe strane su rainbow six vero? Perché mi ha minacciato di farlo anche oggi Che cazzo vuol dire che devo tenere prima cosa nella direzione per fare questo passaggio Quello che hai detto te Esattamente quello che dicevamo prima Sono pronto Devi ricevere o devi fare il passaggio? Passare Devi passare? Eh Ci devi premere il tasto direzionale Sì In modo da passarla Schivando il difensore Ah Ma vaffanculo assorga Mi rinviti Z Cioè accetta la mia application Eh non sono io Ah Mecca accetta la mia application La mia application Non lo sai ma c'ho anche messo dei petali di margherita dentro Ah lui si muove la morina No Perché devo aprire cosa un attimo Ma è free to play? Certo che è free to play Freestyle Free to play You know what? Passiamo oltre il tutorial Bravo Come ho fatto io Ho sbagliato Ecco Porca troppo Porca troppo Eh no Non è questo Chissà lo ricorda più come cazzo si fa Manage members Ok Ce l'ho fatta Io la mia partita No dovevi chiamarlo è Duxinho Non è Duxinho Cazzo Oh non mi caga che a te cazzo Dicevo anche te No arrivai su club Quando è finito Arrivo Cerca il club Ma ci sono i falli Perché la mia partita La media di fifa Fini fa con otto giocatori Ok No 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 Diciamo che se volevi fare fallo Non prendi palla Non puoi falciare da dietro Ah è quello Perché io di base Devi prendere la palla Stando davanti Minchia Ma quindi come ci Come ci organizziamo Io sono umbiliano Sul club Fai il difensore violento Io fosse te farai Simone Loria Club No Che palle Club search E fai Ingy Bang Search Grazie E con la B maiuscola Non sanno come intercettare il pallone Ma ci serve Porca troia Mi devo sacrificare Per sti due strozzi Ok Vedi che adesso Ti facciamo il culo a cappella Chi è che fa la punta Tra l'altro In tutto ciò Deve farla Non è Luca Toni Ah no sei tu Ok perfetto Numero uno Mi devi accettare Quindi non è fatto Come me Uno centrocampista Sì Ma ci chiedevamo oggi Con un West Chi usa il portiere La CPU Fa tutto la CPU Sì Ah ok Flash Nipple Mi hanno preso Sì Perché aveva Io pensavo giocassero Con il maglioncino Nella presentazione Che aveva proprio Le due sette Sui capezzoli Ok Invitatemi nella squadra Allora Trevo la partita Hai fatto a te la partita Faccio io Come vuoi Che minore Che ti aggiungo Come le chiami? Flash Nipple Con una sola P Aspetta Ho fatto io Ho fatto io Quindi Flash Flash Nipple Nipple Dai ma lo puoi aggiungere Anche adesso Che siamo in lobby Insieme Lucatoni Perciò anche a notte Spreta In invitation Esci dalla tua Lobby Che bello che sei Simo De l'olio Quanto A quanto appoggiato Perché ha la maglietta Lui Perché io ho shoppato Davvero No però Però volevo fare Un lucatoni Con la maglietta Proprio Della persona italiana Ok Siamo amici Ho speso un po' Quanto hai speso Hai i soldi in gioco Sì ma soldi I crediti in gioco Ce n'hai 80.000 Cazzo Invitati di nuovo No Lei che mi sa C'ho la qualsiasi Che è la mia punta The players Refuse Asseghi Di una Infiltation Perché Appare il popappone No Le Massimo Ah ma sei te Perché dicevo Chi cazzo è Simo Ma è un uomo Io Sì Sì Flash nipple è un uomo Sì Che problema c'è Perché il lucatoni È il numero uno Guarda che brutto che è Tra l'altro Flash nipple Chissà se adesso Ho abbassato violentamente L'audio Come facciamo a vedere Se c'è 60 di elo Scusate Se sono tutte livello 1 Elo Elo Ma perché Lelo credo che sia Sul manager Non sul giocatore E allora prendevo Dejano Caracchio Ma hanno fatto aggnochissimi Personaggi femminili Lucatoni Non so dove è un attacco Io ve lo dico già Peccato che non potranno fare Versioni di football americana Ma potrebbero anche farlo Farlo un Fare un NFL blitz Esatto No no ma adesso Noi prendiamo tutti NFL Madden Prendiamo tutti Madden Io Non ce l'ho ancora Tra l'altro La fine non l'ho ancora preso Non l'ho preso Né NHL né Madden Parcattolo Non mi ricordo Eh però io non sui tasti Col pad Oh cazzo No perché non l'ho preso Vai Luca Come si scatta Trigger destro Trigger sin No dai Bump Ok No dorsale Il trigger No dorsale No Il trigger è quello più grosso Eh infatti non è il trigger Lo so Ok Ma basta che vado sulla palla Per intercettarla Sì No devi andare sulla palla E E premere E premere il tasto di take O di passaggio Vai Luca Toni Come si fa il passaggio Quello tutto figo Quello filtrante Y Merda Colpa mia Questa è colpa mia Piena colpa mia Eh l'ho fatto con la tastiera Tutorial Andiamo con i cori Sì volendo E se la bassa ancora un pochettino meglio Eh mi piacerebbe Eh non posso farlo adesso Il portiere non lo ha abbassato Io l'ho abbassato di brutto No il portiere pare abbastanza Però devi mettere in condizione di paracca Perché non l'ha presa lì No so perché non l'ha presa Sinceramente No in teoria la prende automatico È per quello che non ho capito Perché è successo Però va bene T'ho fatto un assist E si calcia normalmente Conti con la X X calcio B cross Y passaggio filtrante A passaggio normale Ok Ah il tiro quindi solo uno della X Ok Non capisco sta cosa Che si esulta ai gol avversi Sì In teoria c'è il fuorigioco Dal centro carico Dalla pala e niente Grazie Raga io vado solo di tackle Sappiatelo S'abborgia Meno forte Sempre s'abborgetta Mai sabbio Non sapevo quanto fosse sensibile Sì è ultra sensibile Ho schiacciato pienissimo Te lo giuro Anche il cross Le prime sensazioni di tiro Sono abbastanza Di fronte No per riceverlo dico Ah, no, un tiro lo ricevi, se è alto, se vuoi tirare al volo, ok Ma lo hai getto! Luca, Tony! Folle! Che cosa ti ho fatto? Ma, venite qui, come sai, venite qui Ma come si fa coltanto? Con la A Con la A del pad, ok No, con la A del tastiera Ah, devi passare la Pai Sessia, vai Ma quanto siamo forti, cazzo Troppo potenti, ragazzi Quindi niente 5 minuti in me che importa, no Non si può Non si può Luca, Tony! Il nome della squadra è IndieBank, ovviamente Lo vedete là in cima Infatti, se siete tutti i personaggi di una squadra Siete tutti i personaggi di una squadra Esce fuori il nome della squadra in cima Ma per difendere cosa puoi fare? Lo scivolata con X o B Con la A fai il take all quello Fai! Oh! Sto stonzo Cosa fa? È andato leggero È andato leggerissimo sul TB Ah, io sono questo Sti, ecco, non spavano troppo la stamina che non si recupera Ah, io mi sa che sono dove non la recuperi più Opla Andiamo C'è stato un piccolo momento di... Ma poi abbiamo anche preso... Ma la difesa fondamentale è che la punta... Cioè, tipo, tu cos'hai molta più stamina e sei più brava a tirare No, io ho pochissima stamina Il centrocampista ha un po' di stamina Ok Il centrocampista corre veloce e passa bene Il difensore picchia come un fabbro La barra sotto è una barra del tiro Ok, ecco, la sopra ce lo può Vai Loria! Noi! Bell'idea, peccato Peccato Se lo prendevi al volo e la mettevi nel set Io svenivo lì Non so se è ammazzato con il culo Eh, quei corri fan cagare Non so se si sentono in cima Sono purti, il purti No Ti stavo diagonalizzando C'è pure la stamina Chissà, sta cosa mi ha triggerato Tranquillo Super purti Abbiamo Cesc A Grande, Cesco Cesc A Chi cazzo sono io questo? Dov'è? E chi ci ce l'ha adesso? Ok Facciamo finire il tempo, continuiamo Così Caccia via subito Il gioco è studiato per non farlo Non fai fan Picchi solo di brutto e basta Il nome della squadra ha voluto Luca Toni e i tuoi piposissimi amici Tutto qua? No, ok Tutto qua Se tiro da qua, cosa succede? Che cosa? L'ignoranza Il gol fatto col difensore Sai che non l'ho mai visto segnare al difensore? Esatto Se tiro, che succede? Prendo il campo Chi lo sai? Ma la parasse è proprio easy Eh ma la parano spesso i portieri Ma ci lo fa cagare Ah quando Se vuoi intercettare il passaggio Mi conviene usare la A come tacco Sì Se non schiacci niente No, va bene Va bene Va benissimo Anche se era fuori gioco non importa Dai Nooo Mi sono entrati Indietro di Corsissima Vabbè che è vintissima Vabbè Fred questo ci ha tirato proprio È primo tempo Fred non è vintissimo Ah quanti sono? Due Quanti sono Questa Lo sapevo anch'io questa Come fare Ma magari io vedo Street 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 Erano tipo tre tempi Street Food Sono campione nazionale Tra l'altro Quando è il prossimo Che sono riuscito a soltare Tutti C'è stato Come ieri No ieri no Eh però Eh Fred ma io non scapisco Quello che sto facendo Guarda un po Faccio le scivolate a metà campo Se vuoi segnarti una resciata Con Dejano C'ho il calcio scorpione All'indietro Non ho rovesciata Ma ho il calcio scorpione In salto Quindi Brutta idea Starebbe fuori gioco Si capisce un calcio Ho tirato la palla a caso Si è la tipo fuori gioco Questo non è essere l'offesa Uuuuh Puttanella Eh scusa Non devo perdere Dove sono le evoluzioni Eh bisogna arrivare a livelli più alti Se volete adesso esco Con Luca Toni No però Uuuuh Luca Toni è un must Ma se la palla È da qualche È l'unica punta che abbiamo Luca Toni più che altro Vai Mac Vai E ha voluto quel passaggio Peccato Eh no No brutto C'è un piccato livello Senza Luca Toni Non abbiamo attaccanti Vabbè Vabbè Il mech può fare attaccanti Ma così non avevo difensori Ho giola qualsiasi Che era a livello 5 Però non aveva il nome Quindi ho dovuto rifarlo da capo Adesso è a livello 1 Ma va bene Ma senza avere difensori Non trovo il mech Non possiamo giocare Si esatto Ci serve un difensore Comunque Ok Comunque vi do Sta cosa delle magliette Che sono tutte blu Tutte rosse Non mi piace Sto passaggio Eh ma è casuale Tra la maglietta Nel senso Ma è casuale A volte rossa A volte blu No te la danno all'inizio Quando crei Ti danno una maglietta O rossa o blu Oh Oh Right on Oh Ma sta stronza Guardi che piano piano Oh Mamma mia Piano piano Entra Porca La cosa bella Che io ho tipo Delle abilità Tipo Chiama al portiere Per farlo uscire Cose varie Peccato che siano Perché hai scivolato Peccato che siano Sui pulsanti Della tastina E non si possono Mettere su Gita Altro eh No Però me ne sono Dribblato uno E sono filo Colpa mia Sono partito in avanti Come un colpo violento Però questi sono Dei coglioni Quindi non c'è problema Che problema c'è Oh L'ha preso Passaggio L'ha preso Passa qua Passa qua Eh un attimo Crossa in mezzo Dignoranza Non c'era nessuno Dei nostri Sulla fascia ancora Passa sulla fascia Sulla fascia Tutti fuorigioco Tutti Facciamo Alzati Tutti su con la mano Come il fuorigioco Del Manchester United Via Ollè E' giù O la Lucca Tony Che va anche in difesa Sto mazzo Ok no Non l'amazzo I ruoli vanno un po' Farsi bene Difensore Altezza All'altezza Del metà campo Perché non è cambiato campo Perché non è cambiato campo No no Abbiamo ruotata È ruotata E siamo di nuovo Girati di sotto Anche loro Gli altri avranno La cosa girata di sotto Ed è Per Lucca Tony Questa è proprio di punta Come stai 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 Una resta Bene Io farai C'è la Lega C'è la possibilità Di fare i campionati Io farei una Road to Division 1 Così Solo con questa Ma la facciamo Ma devo usare Lucca Tony Eh sì Vabbè Non ce l'hai Tipo tre personaggi No no Io ho Dejano Però ripeto Se non c'è un attaccante Non possiamo due cani Ho Dejano Lo faccio io Eh non avremmo difensore Così Vabbè qualcuno Fa difensore Qual è il problema Raga qualcuno Gli spari a quello Cazzo Due ore Qual è il problema Di portare Lucca Tony All'orgoglio Dribbla Tira Come si tira Come si tira Da di cazzo Poi raga Qua tutti i saputi Qua tutti i saputi No Dove Della live Come si tira Quando siamo nel bonus time Del secondo tempo Nordic ci chiede Raga Come si tira No no Perché Io giocavo da Mezzo difensore Per ora Non ci ho proprio neanche provato A fare un gol Che scherzo MVP Lucca Tony Tanto l'ho preso 3 a 5 Il dio Vogliamo altri personaggi Farò dio Oltre Lucca Tony Ripeti Io ho Dejano stanco Dai io faccio Giola qualsiasi Ma no Dobbiamo creare Dei personaggi nuovi Quindi Tipo Norrie Che tanto gioca Comunque Da midiano Si fa il difensore Cosa fai? Sì? Dimmi di sì? Cioè dimmi di sì Dimmi cosa No Non possiamo uscire Dalla partita No vabbè fa lo stesso Ma lo faremo un'altra volta Dopo la live Fino tutta stanotte Talla notte C'è qualche mignotte Tanto volete giocare Ci sto No io lo devo staccare Ma se ha sempre Contro loro? Ah no No Norraldino Sì 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 C'è una lepa Luca No no Sono sempre loro Sì una lepa c'era Me la ricordo Fritti scampi E chianti Rallamari Lucca sei per me Ti sei andato a cercare Dove l'ho uno No no Lo so a memoria Ah lo so a memoria Per l'urs Ultra roccia super squad In realtà Io edo abbiamo la maglia rossa Fossero a rossa anche loro due Ho pagato tipo 4000 credit Oh mio di mignotte Allora adesso In base a quale fisica Il mio tacco L'ha pinto la palla là Secondo la fisica del gioco Che cazzo sono io Su un croc blu La folle folle fisica del gioco No Cosa ha fatto questo pazzo Grande Luca Toni Vado Andate in mezzo Violenti No Corri 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 È stato bello Finché è durato Poi link e purte Che abbiamo ragazzi Si vede che ha fatto La scuola carica Maioco poco Maioco Vabbè per un altro personaggio Chiamarlo poco Yoko poco Maioco È ma 14 caratteri Il limite Sì Ve l'ho detto Che questo ha fatto La scuola calcio Come si cazzo fa Sei marcat Guarda che roba Cos'ha Ha inventato calcio Nori ha inventato calcio Per un momento Scartato tre giocatori Non lo sapete Ho premuto solo A per fare il tasto Il resto stavo solo andando avanti Mamma mia che roba No 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 Ciao due minuti Svia tutti avanti No E fu il gioco E fu il gioco Usare la per arrivare prima dell'altro In quel caso Oh no Lì di testa Ci dai di poi dar di testa Spinto Via Ignoranza Via sta palla di merda Ho passato al portiere senza sapere Il triangolone di Nori Vai 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 No Perché c'è Torna E uno fu il gioco Lo sconca Vai 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 Tira La triangolazione Vabbè almeno sapevo che lui Lag violento In questo momento Lo lo dico Il mio personaggio girava a cazzo di cane Faccialo E non funziona E' lentissimo Non prendi palla Ah il difensore è lento? No no Il difensore è lento E' molto più corto Di quanto si possa immaginare Aspetta Me li portavo tutti Sono Ascolta Bucattoni 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 Bisogna mettersi nei quattro punti cardinali E schiacerea Non stai mai forti con il topo Ciao Matteo Oggi ho fatto tipo cinque partite con Matteo E un mio amico Ne abbiamo vinte quattro E ne ho persa solo una E supplementare Passa la sto qua Avrà fatto tipo nove gol in tre partite Ha passata Uno Bucattoni 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 Molto bello Molto bello Oh Allarghissima Norri Vai Norri inventa calcio Inventa calcio Ci penso io ragazzi No 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 dai Mentre stavo crossando Tra l'altro Caeva High formation Tutto molto bello Peccato che c'è i piedi Non era di una storto Era di una stortezza invidiabile A me ma siamo pazzi Crossa crossa No Vai Norri Edux Tutti su di me Tutti su di me Setta No No Fuori gioco eh Ciccio Ciccio fuori gioco Ciccio Era fuori gioco porco te I bit you Era fuori gioco Stronzi E' un portiere che conosco la calcio Eh si Ma guarda un pazzo questo Non possiamo dirvi Ha un secondo dalla fine del primo tempo Questo lo conosco Non segue traiettorie impossibili nella fizzica Non è un superterre Ciccio Scopri che non riesco il sangue italiano del catenaccio Prima del centrocampo non c'era fuori gioco Vediamo Eh ma era oltre Lo so E' peccato che era già oltre Eh no Fre C'avevo sette persone E' andato No No Io per un placcaggio falloso glielo faccio Per controllo un improvviso Eh nel dubbio salda Ma tanto perché il nostro portiere E' conciato come un giocatore di futbolo americano Guarda ce ne sono alcuni che hanno una spada che gli trapassa al petto Si Davvero E' un Grim Reaper anche Si I portieri sono Mi sto confondendo Li sto confondendo Ho tirato una saborgia Ok No zetto Ah merda Stavo per fare il lobbino Lobbino Non mi faccio capire quando devo scivolarli sulle caviglie Eh quando in teoria dovessi essere Cosa ho fatto? Quando è fai L'hai visto? E' partito con la mezza rovesciata del niente Si Ok l'ho fatto il respintone No Passaggio interrotto e Tornate indietro Eh ho provato a passare al portiere ma speravo fosse 4 pass Jockey Che cazzo è? Ma non avevo mai visto questi testi Here he comes Oh Porca troia che portiere ragazzi Bandonna che squadra calcio Ragazzi che portiere Faccio velo Ostruzione Cata al centro campo Si vabbè Ok vai Lucatoni Lucatoni Pepperoni Lucatoni Trappa Hai tirato talmente forte che hai trapassato il portiere Eh signora Un portiere buono fa una partita diversa Secondo me Secondo me L'unica cosa Il nostro obiettivo deve essere riuscire a organizzarsi in maniera di sparare Nei quattro punti cardinali Mettersi bene Uno davanti Uno dietro Due ai fianchi E premere con il tempo Poi possiamo smettere di giocare Si è spaventato quello la eh Madonna Dovete creare Sergio Brio Il grande stopper che palleggia con le arance Nooo Dai dietro Dai dietro Però vedi adesso mi ha falciato da dietro lo stronzo Eh non proprio da dietro Era su un lato E' vietato da dietro Io da androcchia Switch to AI cosa vuol dire? Perchè mi dice? Mi ha dato adesso un F9 gigante che mi occupa mezzo su Come un F9 gigante? Se non vuoi più giocare i switch ai Ah no forse Ma lo puoi fare davvero? Credo Che bello Vai Edo Per il momento Sti stronzo Adesso lo ammazzo non ti preoccupare Pistolettata che se la ricordo E' vero Luca Tony non deve livellare Altrimenti non è il numero uno E vabbè cos'è? Non si vado a farlo su portiere Non puoi Devi rifiutare il livellamento Credo di si Ma tra l'altro voi ve lo ricordate? Wow 3 contro 1 che cazzo faccia? Un gioco farlochissimo Io avevo gioco di calcio farlochissimo Quello fa un cascolo No eh no Ce l'avevano rimesso anche Luigi un farlotto E' vero ha ragione Per dire si dovevano avere tipo Invece di Roberto Baggio avevi Roberto Baglio Cioè ero così Il primo era International Superstar Soccer aveva E io mi ricordo che potevo Perché potevo Potevi andare davanti al portiere Che quando tirava te la batteva in faccia C'era la cadere e facevi gol Ok questo lo amazziamo eh Questo lo amazziamo Siamo in due sulle caviglie Che lo vengono a prendere in ospedale Che non lo riconoscono più Vai zettino No la puttana Vai Non so che lo sto facendo Vai Nor Inventa Ok non so come sto facendo Tutto molto bello all'improvviso Si ma più che l'ho messo a metà barra Quanto dovevo farlo però Ma ragazzi il gol è un gol Cioè per farlo bello Per farlo brutto Vabbè però Porca troia 3 contro 1 Questo è il colpo a miele Questo è il colpo a miele Questo è il colpo a miele Questo è un colpo a miele Questo è il colpo a miele Questo è il colpo a miele Questa è come la triste sega di Chaos Against Humanity Vincevamo 3 a 0 Vero? Dile non perla No 3 a 1 Sanno fare solo gol di mele Ma perché mi ritrovo sempre 3 contro 1 E non so che cazzo fare La gente lo sta dietro Si calmi eh E qua entro sulle caviglie dell'alleato Dell'alleato Ma se io vado un pelo più avanti No, vi rimane un po' più lì Io con i miei compagni di squadra Li ho sempre chiamati commilitoni D'altronde Quei guerra Cateroia Marcos Eh scusa Z, hai ragione No no, non scappi là Vai senta Luca Tony Luca Numero 1 Numero 1 Dai dai bene a tutti i 4 punti cardinali Dai dai mettetevi bene No, cioè tutti schiena contro schiena Doviamo metterci schiena contro schiena Tutti e 4 e sparare Dobbiamo diventare spè Diventare cintura nera di questa cosa Di mitragliata Eh non si può perché sono tutte pagamenti Fuori gioco Però se la passi giusta Si può usare il fuori gioco A proprio vantaggio Ehm falloso Come triangolazione Triangolazione Non è italiano No, torno indietro Perché questa non la vedo bene Andiamo via dai Via tutti giù Nel Passarla di piedi al portiere E' vero che serve Vabbè Freestyle Così Minchia l'amazzavo No raga Oh brazi Sei un coglione Posso dire sei un coglione E' vero ma non l'ho Com'è il 2p2 Che cazzo è questo? Ma forco Wiz aveva fatto 3 gol No Sono livello 3 posso comprare l'abilità 8 e 5 Livello Ma è il livello 6 che puoi comprare le cose belle Mi hanno dato 6.7 Sono felice Dobbiamo trovare un avversario Il fast football Sancio gift Va bene No Possiamo giocare questo qua come secondo Terzo e quarto e quinto segmento Sì anche sesto Possiamo cambiare avversari Ehm non è che Fino da c'è il matchmaking No no La cosa molto divertente è che non puoi uscire da qua Sei costretto a giocare per l'eternità No Quando finisce la partita Ne dici di dire No no Mi fai torno al menu Oh cavolo Questi sono cattivi Si chiama Muro di Berlino Si chiama Muro di Berlino L'altro Bombardini Bombardini È un nero grosso come la porta Io Ecco Una cosa Mentre Come si chiamava il giocatore di calcio dell'Inter Fa così Quale Con gli occhiali rasta Non era Samuel era? Mi ricordo Mi ricordo Mi chiami scusa Mica c'ho il bomberino questo Oggi mentre giocavo con il mio amico abbiamo trovato uno che si chiamava Mister Black Guy Nel parcheggio stiamo Questi ci aprono Questi sono cattivi Stiamo giocando nel parcheggio Questi sono cattivi Ci aprono non a colla Ci aprono proprio fisicamente Cattoni 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 Mamma mia Butta giù un muro di Berlino Butta giù un muro di Berlino Sono di nuovo tre contro uno Per dire eh Mister Gorbachev Ma questo gioco è free to play su Steam Yoss Per una volta l'ha scoperto E Duxino Oh dobbiamo giocare a questo Scusate per il passaggio di merda Ma quando tocco palla Vado nel panico più o meno Che è una dote che ogni giocatore deve avere I bordini Davids Ecco Davids Edgar Davids Oh madonna Davids C'è l'ha anche con gli occhiali C'è l'ha Merda di un pelo Non ce l'ho fatta Però questo si Stop Stoppe Grande stoppe Mito Vai Minchia come è uscito dalla zona Oh vabbè ma c'è un figlio di mignotta però Infatti è Cesc Visto Passato al nemico al bastardo Senza gli occhialetti truzzi No no ce l'ha A chi le passo No non a me Non a me perché non sono in grado E sei passato a me Da qua Ma no Ci ho provato Un tiro da qua fortissimo Costruzione arbitro Mi hai sbrato anche la minchia Per dire Sotto un giocatore che ha fatto tipo un carpiato Il volante Anche noi Cesc Abbiamo due Cesc Includa una parte Il fratello Sì Cosa fa Chi è stato lui Chi è stato tu Bernildi La zozzona È bello quando fai gol che sei demoralizzato Cosa ha detto l'idiota al commentatore Lo picchiamo You know how to handle the ball Come dissero a Saratina Come dissero a sua madre Ah non la stavo per passare E mi è intanto nel culo Parliamo di Paige Parliamo di Paige Parliamo di Paige Parliamo di Paige Che è una cosa Diciamo che Stendo parlando di wrestling Magari teniamo fuori Fuori dalla discussione Norri Però Si parla di Se lo rimettiamo dentro Scusa Ma secondo me Ho triggerato Infatti il fatto che gli abbia detto Me l'hanno messo nel culo Parliamo di Paige Devo dire che è stato Proprio in Tutti i sensi Esattamente Diciamo che era un po' In senso lato Ma no Più che altro in senso angolo Visto alcune posizioni Varie angolazioni Varie foto Cioè in 6-10 minuti Ti fai una colpura In 6-10 minuti Sembra una ricetta Di cucina Peccato che c'è Luca La tristezza Non so dove sono Che amarezza Oh quasi golla così Tra l'altro Su cross No Me che ti ricordi oggi Il primo tiro Tipo Azione della Madonna Passaggio laterale Solo da te Palo traversa Una roba Che non sei mai vista Nella fisica Palo fuori Una roba Incredibile Come è successo Ma me l'ha passato Sto stronzo Ma guarda Sono stato Gangpengato All'improvviso Bene A domani lo fai Grazie È stato un piacere Dai Inventiamo calcio Dai Vai Norri Vado io Non mi frema che nessuno qua Opla Guardalo 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 Guarda che quando voglio Non capisco Non lo stai facendo Non li dovevi tirare Non dovevi fare Vengono i 15 Capito Dovevi tirare lo stesso Tutto calcolato Sta roba Angoli 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 Ma ci sono Io no Non riesco È solo in una prospettiva Di merda Non capisco Dove vado Adesso si che sembra Tony Ma lo volevo rivedere Perché l'ha schippato Perché lo schippato Sarebbero tre voti Ma io non ho votato Per schippare Io si Non lo sapevo Questa è la mazzo Morta Mancata No 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 Illegale Mi sa che è crollato Discord Non è il momento Non è il momento Che è crollato Discord C'ho troppa tensione In campo Larry Ohi ohi Mi ha morto Discord Mi ha morto Discord Siamo vivi Siamo vivi Squad up guys Squad up guys Allora doppio crossone Che ci arriviamo A fare gol Vai Dai 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 È il momento È finita È già vinto Piantoni 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 Non siamo ancora Coordinati È la telecamera Guarda che bello Piantoni Piantoni Spettacolo È però adesso Che vorrei la chat Dove è Ah ce l'ho Ce l'ho No Per favore Non controviamo In questa Community già Abbastanza Cancerogena Di suo Cancerogena Cancerogena Non va 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 Finita Vi stanno arando Ma cosa Stiamo vincendo noi 3 a 2 Luca Ah 2 a 2 Sembra Stanno pareggiando Ho cominto fossimo 3 a 2 No Secondo me Mi ha fatto il terzo Guarda che non ce l'ha contata Non ce l'ha contata Che segna punti Non ha girato il Foglietto Questa Come ha fatto Che cazzo Che cazzo È provata Entrare nel gengive Ma coca ma cagato E' respinta però Questa Porca troia Però è lì a farsi A fare i pomponi Con le ascelle Ma infatti L'hanno bocciato Alla scuola calcio Rivolgiamo Quello di prima Quello di prima Questa la parava Sicuro Bastava uscire Bastardo Ce la facciamo Ce la facciamo Perché Ma spiegami Spiegami In base a che Senso logico Della fisica Chi sono io Ah io sono con la centrocampo Ci ho tirato un calcio Una peddata Passa Nori Passa in mezzo a qualcuno Calcio Saborgia Perché Traversissima Lo state vedendo L'orso che balla Sulla palla Nello sfondo Si No What Stiamo giocando Due giochi diversi No 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 Che cosa stiamo Di cosa stiamo parlando No questa è illegale Cioè dai Porta vuota Cioè porta piena Dritto Come è fatto Ma di cosa stiamo parlando Dov'è l'orso che balla Sulla stessa L'altra parte L'altra parte Dietro la loro porta C'è un orso Mech Deve rimanere più indietro Eccolo Io lo vedo Io non lo vedo Mi manco Dai è rimanere Il fatto che Mech Vieni troppo avanti Ma sono andato un attimo avanti Mi avete perso palla Così in allegria Che può succedere Ma questo non è con noi Questo non è con noi Che senso Vedi vedi Perché non capisco che è con noi Che è con tutti noi Tutti Luccatoni Petteroni Porco Perché è più veloce Fai Grade Figlio della puttana No problem Cosa stai facendo Ok Ok Non tira Non tira sto colpo Noi Deve C'è un orso cazzo E non ce l'ho io L'orso Dai Mech Chi sono io? Da qua T'ho dosso a te T'ho preso Norri Questo è un mazzo Per gioco Da dietro non funziona No Esci coglione Che Shit Dal lato funziona un po' Da dietro non funziona Che nezzolano Allora Questo l'ammazzo Oh Visto Bastava dirlo Ok Remuntata Che ha fatto palo Esatto Ok Gol Molto scolastico Eh che c'è quasi Abbiamo fatto Invece di fare un più Abbiamo fatto un quadrato Però era qua C'era qua Dietro Lo vedi sto Lo vedi lo so Davanti a schitaro Forse abbiamo Dei dettagli Grafici Come Roncal Dove cazzo L'avete in sletta Non c'è ancora un callo Non vedo Grande Vai C'è va bene Molto No qui c'era Neck Non perdere Provaci Non riflessi Quando vado nel panico Io ho mai scelto i tasti Sappiamo Ho sentito dei rumori Ho sentito Che cazzo No Passaggio è buscato Bravo E' troppo centrale Sto muro di Berlino Ero più nella pace Beh che fai Che nello allargo No perché sennò Qua è un casino Può fare altro che crossare Se tira da lì E' uno stronzo Ottimo Se entrava Io No 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 Non c'era la porta C'erano sei persone davanti Come ha fatto a entrare Ma ce ne avevo io la palla Ma vabbè recuperiamo Recuperiamo C'è il mio che è il calcio volante Recuperiamo Andiamo come prima Tranquilli Niente di complesso Due tocchi in porta Esatto E' il pallone rotondo Porco E non ci agitiamo Bravo Sì però Porca miseria E' sempre lì Oh scusate Che comunque Gli hai spaccato una gamba Non dovete neanche ringraziare Dovere Stanno facendo venire Stanno perdendo tempo Madò Che vergogna Che tre Sono cifre La morte del calcio Vai Vendichiamoci Cosa? Di schiena Non pensavo fosse Dria Andasse Dria Si girasse da sole Si gira Ma che era malissimo Non so Cos'è successo Non ho idea Per me la palla Ha saltato Quei 6 frame Che poi è arrivata Non ho capito Cosa è successo Vai Luca Tani Ma sto stronzo Guarda Adesso basta Le mazze Muori per dire Cazzo De batti La spalla Vedi i quarti picchi Mi batte la mano Sulla spalla Sto coglione 4.9 Mandato Perché io L'MVP Della mia squadra 7.1 Con due passaggi 18 blocchi 3 take No ma adesso Ho imparato Come si gioca Sono fuori Dal mio ruolo naturale Dobbiamo Cambiarci Eh Certo Capista Dobbiamo giocare Dobbiamo rimanere Più ruolo Dobbiamo rimanere Tipo Tra me e Norri Quando uno va avanti L'altro Guardate chi c'è Vendetta Vendetta Ci fanno Il culo Remuntata Non so quello che sto dicendo L'hai scritto Noi però Vabbè Perché sai Sprecare il tempo Un cancro Che si può fare Solo nel calcio Esatto Non ho il Si può fare Sprecare il tempo si può fare stone Il calcio Bravo Madonna Non mi toccare Lido che t'ammazza Grattoni Pepperoni 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 Vabbè vabbè vado Che cazzo è Qui è Un'altra Partenza è ottima Ho visto Incontri UFC E' bella Torre di gente Che va a perdere Tempo Durante In cose Di MMA Finisce male Di solito C'è Chi tipo va indietro Si mette Tattico Per riprendere Che fiato Spesso mi dice Con la giudicata in faccia Cosa hai Lucca Eh E' Ero Quei chilometri Eh vabbè Pensavo scattassi O aspetti O tiri Pensavo scattassi Cioè E' una donna Segalitica Mi ha spinto via Non ha senso Non è per quello Gli hai rubato palla Ma gliel'hai rubata Verso la tua porta No ma Ma ha spinto via Mi ha spinto lui Sono andato indietro Con la schiena Sarà la sacca Dei palloni Fa peso C'è una sacca Dei palloni Vedi C'è la sacca Dei palloni Ados Non ti fa fare un altro Dici Eh Secondo me Pesa tanto Sono palloni La sacca Delle palle mediche Sei in offside Il brutto anche Lo so Aspetto Vabbè prendila Rimbazza E' vero Fai Fai melina Giri in tondo Ah la rimbazza Sì però Porca puttana Rimbazza sempre indietro Puff Oh Bravo Ma puoi sfruttare Fare tipo triangolazione Ok Cosa No C'è cresciato edo C'è cresciato edo Ma non in gioco No no Si muove Eppur si muove Sì sì si muove E' offline No problema Più o meno Devo smetterlo Che passaggi filtranti Facciamo passaggi normali Ma rotto No passaggi filtranti va bene Ma non i cross E luccatoni Le sacche Grande Grande Dobbiamo studiarci La cosa Io E me di solito Conviene fare Centrocapista O punta Per difensore E fanculo Luccatoni Ok Non riesce ad andare su Pure senza disperda Ma lo scrivi solo a noi Vabbè va bene Va bene Basta essere casati L'entusiasmo è quello che Guarda sto stronzo Ho capito E sta allagando un po' Luccatoni Di testa in dufo Da tutto Luccatoni Da tutto Cazzo Non andai fuori Luca Non andai fuori Giame Non fai vinto Non fai vincenza Luca Porca troia Qui c'era il teicolo Cante Dai C'è sempre Quando faccio il teicel Poi c'è sempre Qualcuno Pronto Lo squadrone Ma cosa ha salvato Dai 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 Dai, dai, vai, vai, Duttino, vai, nooo, sei lento come la merda, ma siamo tutti lenti in culo, non so perché. Sì, sì. Di tre, scazzofo, di tre, scazzofo, porca p***a. Via, corri indietro, sei troppo avanti, vai, vai via. Ok, tutto a posto. Oh mio Dio. Sono troppi. Sono tornato. Sono troppi. Fumfamelo. E' arrivato lo squadrone. Anche siamo uno a zero, non me ne so chiuso conto. Che tensione. E siamo uno a zero. Come Luca Toni, come la palla, Luca Toni. Che è la palla, Luca Toni? Non è buona dribblar, Luca Toni, è una sega. Sono concentratissimo. Hai fatto la cacca. Non hai idea. Cos'è questo schifo, Luca? Amarino, ci sei? Edu, vai, Edu, Edu. Edu, basta. Allo zero. Qui si fa la storia. Qui si fa la storia. E' morto anche Mac. Mac? E' morto anche... E' morto anche Mac. Raga. E' morto anche Mac. Che chi ha causato? Sono di merda. Eh, ok. Ci siamo. Ci siamo. Tanto ha scritto, siete caduti tutti. E il fatto che c'era T e poi il spazio T, mi ha censurato. Caduti tutti. Grandi, grande, grande partita, grande tensione. Madonna. Edu è proprio morto, proprio. Non riesce ad entrare più. Ma dove va? Dove va il mio? Non sono io. Non sono io a farlo. È l'altro. Cos'è successo? La chat ha scrollato la chat. Ok. Non è il momento. Sono pronto. Non c'è problema. Tutto a posto. Vai, vai Luca. E' un po' corto. Oh, eccomi. Ciao, Rebo. Ok, ci sei. Autogol. Puttava l'autogol, davvero, questo. Veramente. Madonna, ci siamo proprio capiti io e te. Vedi, tipo, tac, frizzantino. Frizzantino. Si sono fatti in metà campo con un passaggio. Ma no, no, no. Non correi niente. Cioè, il loro quartiere prima ha fatto delle parate che dire vergognose. Di quando ne ha parate 3 di fila, come cazzo fanno. Con un po' di petta arrovesciato di Loria, cazzo. Adesso ha parato adesso il nostro si fa entrare la prima troiata che gli tiro. Sì, esatto. Ho fatto 50 e dopo in controllo. Non mi tornano i colti qua. Boh. No. Sta stozzo. Edo, sai che io ti voglio bene? Ma i crossini. Ero in panico, me stava per entrare nelle gengive. No, lo so, lo so. No, piuttosto fai il filtrante, non i crossini. Non i crossini. Non i crossini. Non i crossini. Che odio. Finché non ti lanci un crostino, va bene. Secondo me si potrebbe giocare in caso di vantaggio con il 4-0-0. Tutti sulla linea di porta a fare muro. Ci sta? No, vabbè, ma vaffanculo. Arrivare a disco. Noi possiamo tirarne 5 e non entrano. Non lo ne fanno. Non lo vede. Scritto. Ma perché, anche perché, secondo me, quella sacca dei palloni è da sciopponi. Io non l'ho vista. C'è una fucilata. Io ho lanciato la pinzassa e nascondo la mano. Guardate. Mi ricordo di tutti i fischi di Volleyball on Bout. Io credo di aver abbassato a sufficienza, ma se vi dà fastidio l'urlo di gol, non avete idea di oggi come stavo bestemmiando con quel cazzo di commentatore. Mi sono uscite solo due L di bismilioni. Boba e vieni, c'è il cagato il cazzo. In 4! Aveva un po' cagato il cazzo, diciamocelo. Vieni. Questo cosa? Minchia. No, ma già l'avevo preso io. Eh, devi comunque premere A, non devi premere qualcosa. Ok, ok. Se no, non qualcosa. Ah. No, ma puoi premere anche X o B, però lo fai in... Grande Cesco. Una soddisfazione d'accio, l'antanto, eh. Si è buffato, ma era centrale il pallone. Sì, vabbè. Sì, è perché probabilmente ha fatto la scuola a calcio, ma l'ha fatto da bambino, piccolo, piccolo. Ha fatto la scuola a calcio di Giulio Cesar. Sì. Vai. È un po' corta, però... Polizzo! Porca troia. Spero... Speriamo di averli rotto le gonali con un calcio. In mezzo, per l'alci di mani in mezzo, ve lo dico. E mi levo dal mezzo. No, cazzo! Dai, dai, ci abbiamo provato. Ve l'ho detto, l'alci di mani in mezzo. Va bene, va bene, rimane un minuto. Però è vero, non lo poteva fare coreano il giocatore. Non l'ho fatto brutto. Più o meno ci siamo. No, cosa? L'importante è quello, dici. No, ma io sto capito bene. Il passaggio iniziale del portiere non lo puoi accettare. Perché l'ha cacciato per terra, papaculo! Zucca! Vai, Edo! Corri, Edo! Corri, corri, fai gol. Mia mia. Non mi ha dato l'assist. Non è che come abbia fatto a fare l'effetto di lato? Lo fa caro, vero? Cioè, gli effettini li fa lui, immagino. Sì, gli effettini li fa lui. Ma, tra l'altro, io l'ho messo come piede preferito il destro. Vuol dire qualcosa? Sì, e se è un po' più preciso. Con il destro, sto più preciso. E qui faccio sapere con quale piedi tira. Beh, è se... Qua cosa come sei girato. Cioè, lo vedete però? Mi fa incazzare. Sti cover hanno anche tirato storto, l'interno, a girare. Cioè, sti qua si tirano, veramente, in mezzo al campo entra la palla. No! L'ho scritto caccoloni. E vuoi vedere che cac è inteso come... Guarda, è imbarazzante. Sì, ma prima ha censurato... Come caccolo, viene bloccato. Ma non ha censurato della roba, prima che... Ecco, mai capito che lo schema è te la passo a te? Sì, sì, no, io ero lì che me la remenavo, aspettavo che mi allargaste, cos'è almeno. No. Uuuh, vai le donna! Uuuuh! Impossibile! Tra l'altro di destro, cioè, fuori da ogni legge della fisica. Cos'è? Bella donna, mamma mia, esattamente. Così? Così si... All'idea. Ciao. Ciao, au, devi dire. Ciao. Ciao, au. 118! Chi è che mi ha picchiato dentro? Cosa nooo? Niente, anche un la 118, a caso. Roma, Roma e Ribéry, amore mio. Amore mio. Oh mio Dio. Ci vorrebbe più un piccino. Vai, Luca! Pepperoni! Oh! 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 Oh, shit! Mi strago nel culo, vada a dire, si straga. Mamma mia! Tutte le partite domenica allo stadio, vado a vedere. Ci sparano, è la volta che ci sparano ci vengono a prendere, secondo me. Però... Il saborgione del seco. Quindi niente da game abbiamo detto oggi. Guarda come l'abbiamo confuso. Cosa, Mac? Niente da game oggi, giusto? Niente da game. Ok. Io lo strago. No, giusto per dare informazione. Non era un commento, era proprio una domanda, ma non proprio una domanda. Ma io dopo questa, vediamo se c'è una lega della quale Squinn c'era a provare a fare. C'è una lega. Io direi dopo questa, mentre faccio la domanda, guardate un attimo, ok? Luca! Luca Don! È vero. Io direi però con questi personaggi, non sai. È vero. Ma così? Vogliamo rimanere così? 9.9! Non lo voglio fare difensore! 5.3 pe...